e c'è questo nuovissimo video di un video che fa ridere un sacco allora oggi volevo fare una relazione da questo video che fa ridere un sacco allora non iniziamo a farci il tempo di guardarlo ciao ragazzi storico no vabbè iniziamo a guardarlo no vabbè il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il signore sia con voi no vabbè scoppio di ridere ragazzi cioè i preti fa il signore sia con voi e con il tuo spirito e poi fa il rutto il nostro aiuto e poi sia benedetto il nome del signore il signore sia con voi no vabbè ragazzi ragazzi veramente questo video fa troppo ridere il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il nostro aiuto è nel nome sia benedetto il signore il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il signore sia con voi sia benedetto il signore il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il signore il signore sia con voi sia benedetto il signore sia benedetto il signore sia con voi e con il tuo spirito sia benedetto il signore sia benedetto sia benedetto il signore sia benedetto il nome del signore no vabbè che è vero di terminare sto video perchè che adesso quando lo edito il video e quando modifico il video veramente lo posto e lo schiaccio veramente troppe volte mamma mia da quando sto arrivendo tantissimo mi viene la tosse è normale perchè non rido c'è ultima volta il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il nostro aiuto vabbè ragazzi io direi di terminare il video e niente ragazzi ciao 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 ciao